Lancia un grido d'allarme la Confindustria Abruzzese. L'economia regionale nel 2010 sarà travolta dall'onda lunga della crisi globale. E a confermarlo purtroppo sono i numeri. Nel corso del 2009, ad esempio, secondo i dati ufficiosi dell'Istat, il PIL abruzzese è crollato del 5,6%. E poi le esportazioni calano del 29,7%, le grandi aziende sono in crisi profonda. Il ricorso alla cassa integrazione è più che quadruplicato. Il tasso di disoccupazione nel 2010 è destinato a superare di molto l'attuale 7,6%. L'anno 2010 per l'occupazione sarà peggio del 2009, perché tutto quello che è cassa integrazione si traduce in licenziamenti. E questo è il problema. Abbiamo l'Assemble che produrrà il 50% del prodotto. E quindi questo vuol dire che si porta dietro tutto l'indotto. E quindi noi purtroppo abbiamo queste grosse aziende. E se è in crisi la grossa azienda, ne soffre anche la piccola. Le proposte e le sollecitazioni alla politica regionale della Confindustria sono sempre le stesse, commenta poi amareggiato il presidente Marrollo. Sono quelle che ribadiamo da dieci anni, come la semplificazione amministrativa, l'abbattimento del debito, le leggi di settore per ricerca e accesso al credito, l'eliminazione degli enti inutili e dei consorsi industriali. Proposte però che non si sono mai trasformate in realtà. E allora, come dicevano i latini, repetita Juvent. Stiamo riproponendo le stesse cose che ormai da dieci anni, che noi facciamo pressione sull'amministrazione pubblica, cioè quella della burocrazia che frena lo sviluppo. Chi oggi ha intenzione di intraprendere, di fare un'attività, deve fare i conti con l'amministrazione pubblica, che ci vogliono anni tra conferenze e servizi, che si rinviano in continuazione e non si riesce mai a arrivare a capo. La politica deve essere quella di aiutare le imprese, perché se l'impresa funziona vuol dire che crea ricchezza e crea occupazione. Invece si fa tutto al contrario.